Assessore, oggi si pianta di nuovo quello che sarà un po' il futuro della città di Teramo con nuovi alberi qui al Parco Fluviale. Assolutamente, ringrazio le associazioni forestali che hanno voluto ricordare questo giorno importante la festa internazionale delle foreste, ricordare il valore e l'importanza delle alberature e quindi un'occasione per ricordare questo giorno con la piantumazione di 10 essenze di alberi, 5 sono di Cipresso e 5 di Lecci. Ovviamente poi abbiamo voluto invitare i bambini perché dobbiamo lavorare sicuramente sui bambini, sulle nuove generazioni e far capire l'importanza del rispetto dell'ambiente, dell'importanza della piantumazione, degli alberi, delle foreste che ci danno ossigeno, soprattutto a fronte di un cambiamento climatico che purtroppo è innegabile che sia in corso. Non posso non chiederle delle oltre 2.000 preferenze che ha raccolto alle ultime elezioni regionali che immagino insomma le abbiano fatto molto piacere, a prescindere dal risultato poi finale. Diciamo di aver portato avanti una battaglia da solo sicuramente è stato un risultato e ringrazio tutti quei cittadini che mi hanno sostenuto e hanno capito l'impegno e l'amore che ho messo in gamba per le amici che continuano a mettere, mi auguro per la possibilità di continuare a mettere, cercando di valorizzare il nostro territorio il più possibile, soprattutto siamo qui oggi nel Parco Fluidale, abbiamo questo patrimonio di valori inestimabili che dobbiamo cercare di abbellire sempre di più e rendere più fluibile a tutte le fasce di età e quindi quello è il nostro obiettivo, è il mio obiettivo soprattutto e quindi speriamo dell'opportunità di continuare con questa attività di salvaguarda dell'ambiente, di rispetto dell'ambiente e di valorizzazione del nostro territorio. Lei lo spera perché si parla molto di questo rimpasto di giunta, ha paura di venire defenestrato? No, io nessuna paura le dico, nella vita ho tante cose da fare, non sono attaccato alla poltrona, ci mancherebbe. Diciamo che ci vuole coraggio a parlare di defenestrate di Buonaventura, che ha lavorato per 5 anni senza un giorno di ferie, 8-9 ore al giorno, lo sanno tutti, però il sindaco ha la libertà di decidere lui, quindi è una libertà che io non posso andare a computare, quindi lui sa quello che deve fare. Io sono a distruzione dell'amministrazione e continuo a essere, poi se ci sarà una presa di posizione per me non cambia nulla, ho tante cose da fare, soprattutto di dedicare un po' di più di tempo alla mia famiglia.